Ciao Tony, dove state andando? In biblioteca, dobbiamo prepararci per un esame. L'esame d'inglese è andato bene? Credo di sì, mamma. A me invece è andato uno schifo. Quando la smetterai di essere pessimista? L'ultima volta che hai detto così avevi preso otto. Hai ragione, ma avevo corrotto il professore. Ok. Vi auguro di divertirvi in biblioteca. Ciao, ciao. In biblioteca, ma non dovevamo andare a fare spese? Sì, l'ho detto solo per farla stare tranquilla. Andiamo. Mi dispiace, ma sei caduta in trappola. Non si dicono le bugie alla mamma. L'ora della vendetta è finalmente arrivata. Sarà uno scherzetto per il grande Sherlock Holmes.